C'è un solo nuovo caso di coronavirus in più rispetto alla giornata di lunedì nel retino. Si tratta di una signora di 92 anni, residente in città, ricoverata inizialmente presso lobby. L'osservazione breve e intensiva del San Donato è poi trasferita nel reparto di malattie infettive. Tutti gli operatori entrati in contatto con la donna indossavano i dispositivi di protezione individuale. Nessuno di questi è quindi in isolamento. Dunque un solo caso e non cinque come comunicato nel primo pomeriggio dall'asla toscana sud-est. In realtà era uscito anche un altro bollettino smentito pochi secondi dopo ma riportato da alcuni siti di informazione che aveva creato un certo allarme tanto da portare il sindaco di Bibbiena alla smentita perché il caso avrebbe riguardato una bimba di otto anni casentinese riportando così inevitabilmente la mente al caso della maestra contagiata alcuni giorni fa. Non è una notizia vera. C'è stato un errore da parte della ASD nella trascrizione dei dati. Infatti è appena uscito adesso il comunicato ufficiale. Lo trovate su tutti i siti di aggiornamento su Arezzo che non c'è nessun caso a Bibbiena. Vi prego aspettate sempre e solo le comunicazioni istituzionali da parte mia e dei sindaci in generale perché solamente noi possiamo darvi le notizie vere e attendibili che siamo in continuo contatto con l'ASD, direzione generale e con le ASD territoriali. È arrivato anche il mia colpa da parte dell'ASD in una giornata indubbiamente convulsa sul fronte contagi. L'azienda si è scusata con la comunità e con i sindaci. I sistemi tecnici dell'ASD sarebbero andati in tilt e nel primo pomeriggio è stato così diffuso un bollettino che poi si è rivelato inesatto. Grazie.